Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A12 per traffico intenso ci sono code alla barriera di Rosignano Marittimo in direzione Sud. Sulla FIPILI possibili disagi nel tratto tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze per lavori di messa in sicurezza del viadotto Ponzano. La viabilità cittadina a Firenze proseguono i lavori di rinnovo della rete idrica di via Bolognese. Per questo motivo chiusure e modifiche alla viabilità. Chiudiamo con i treni per lavori sulla linea faentina prevista la sospensione della circolazione a partire da oggi tra Borgo San Lorenzo e Faenza. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!